Ti piacerebbe avere tanti vantaggi per la tua spesa a portata di smartphone? Grazie all'app MyCop, ora risparmiare è più facile. Per installare l'app, bastano pochi tapp. Vai sul sito www.copmaster.it Se hai un dispositivo Android, tappa sui tre pallini in alto a destra e poi su Install App. Hai un dispositivo iOS? Anche in questo caso bastano pochi passaggi. Tappa sull'icona Condividi in basso al centro. Scrolla e seleziona Aggiungi alla schermata Home. Dopo aver installato MyCop, è necessario effettuare il login. Non hai un account? Registrati! Se invece hai già un account, inserisci le tue credenziali e infine seleziona Accedi. Ora, finalmente hai sempre a portata di smartphone i volantini Coop e HyperCop per scoprire in qualsiasi momento tutte le offerte in corso. E su MyCop, la CoopCard diventa digital. Grazie al QR Code, accedi ancora più facilmente a tutto il mondo di vantaggi e convenienza Coop. E a molto altro ancora. Nella sezione Offerte, infatti, trovi tante promozioni esclusive riservate ai clienti app. Per utilizzarle, ti basterà mostrare il QR Code della tua Coop Digital Card alla cassa. Con l'app MyCop potrai inoltre consultare gli orari e le informazioni del tuo punto vendita preferito. Congratulazioni! Al primo login, subito per te, 100 punti di benvenuto. Comodità e risparmio a portata di TAP. Scarica subito l'app MyCop.